Che capelli, che capelli inguardabili! Ciao ragazzi, io sono Tuccio Lorenzo, come sempre qui su Tuccio TV, e bentornati in un nuovo video recensione dedicato alle Energy Drink. Per quanto senso non possa avere, oggi sono tornato con la Monster Ultra Wide. Ecco qui una lattina molto particolare, l'avrete già notato di sicuro, perché è da 355 ml. Una lattina più piccola, più stretta, che ricorda in tutto per tutto delle altre lattine di Monster, come la Maxd o la Cubalibre. Quindi sostanzialmente una bevanda che sia al suo fascino, perché in una lattina così piccola è anche bella da avere nella collezione messa in confronto con le originali. Eccole qui le nostre lattine di Monster Ultra. Qua a sinistra, quella da mezzo litro, e qua a destra, quella da 355 ml. Ebbene, sono entrambe in italiano, ovvio. Diciamo che le differenze, al di là della dimensione, sono proprio lievi lievi. Forse i motivi cambiano leggermente. In questa versione, come potete notare, sono molto più marcati. Infatti abbiamo questi motivi molto accentuati. Mentre nella versione, diciamo, small, i motivi si vedono ben poco. Nonostante abbia messo a fuoco, vedete che si vedono ben poco. Quindi che dire, a parte questa differenza, il logo è lo stesso, il fondo è lo stesso. Anche sul retro, come potete vedere, è la stessa cosa. Sì, magari cambieranno un po' le scritte, vedete, al niche the best, in due righe. Mentre qua hanno separato le icone dei social, insomma. Le solite cose. Questa ha come scu 0117, mentre questa ha 1020, insomma. Due lattine molto, molto standard. Direi di provarle e di parlare un po'. Ok ragazzi, è arrivato il momento di aprire. E di versare. Bianca è standard, come sempre ragazzi. Ragazzi, Monster Ultra White. Cambio di location per variare un po', se no si cade nella monotonia. Sempre ottima la Monster Ultra White. Sapore molto dolce. Molto intenso, proprio dal punto di vista della dolcezza. Che magari a non tutti piace, perché conosco gente a cui non piace la Ultra White. E poi c'è gente che ne va praticamente matta. Ragazzi, continueranno ad esserci video di Monster. Questo è poco, ma sicuro. Devo ancora un po' organizzarmi sulla ricerca di lattine. Poi piano piano, quando avrò qualche introito, poi sicuramente comprerò altra roba. Quindi non preoccupatevi. Ci saranno le Rockstar a tenere compagnia. E poi un sacco di altre bevande, tutte quante da provare, molto particolari. Però zero spoiler ragazzi, zero spoiler. Ringrazio ovviamente Monster Maniac per avermi fornito questa lattina da 355 ml Dandomi la possibilità di portare ovviamente un contenuto nuovo Perché ogni occasione, ogni piccolezza per quanto riguarda il mondo Monster È sempre l'occasione per fare un video nuovo. Ok ragazzi, Monster Ultra White Versione diciamo small, più piccola Che dire, spero di trovarne delle altre anche così piccoline Così andiamo a rifare anche recensioni magari vecchiotte E ci potrebbe anche stare Così ampliamo pure il numero di recensioni fatte Che è sempre una collezione da avere Perché io la collezione non la ho solo di lattine fisiche ragazzi Il bello è questo perché io l'ho nel mio mobiletto Tutte quante le lattine di Monster Belle, ordinate Così come le vedete nelle playlist Infatti nelle mie playlist se voi sfogliate Vedete che tutto quanto è in ordine Ci sono tutte quante le lattine di Monster Divise per Ultra, Juice, Yava E così via Quindi ragazzi, se siete appassionati al mondo delle Energy Drink Non esitate a fare un salto alle playlist Per vedere tutte quelle che sono le novità E ovviamente anche i video passati Che magari vi siete persi Io concludo qui questa recensione Spero che vi sia piaciuta Come sempre lasciate un like Commentate Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto E noi ci vediamo alla prossima Da TucciTV Ciao Ciao